Buonasera mister, scendiamo in campo domenica per questa prima partita di campionato di Serie C, insomma l'emozione di questo esordio, raccontaci un po'. Buonasera, siamo carichi a punto giusto, abbiamo lavorato durante questo mese e mezzo di preparazione atletica, ci stiamo affacciando a questa nuova esperienza, speriamo di far bene e questo esordio spero che sia positivo per la nostra squadra. Siamo nel massimo campionato regionale, che tipo di stagione ci aspetta? Noi siamo degli esordienti, quindi cercheremo di mantenere prima di tutto la categoria, ma cercheremo al tempo stesso di guardare verso l'alta classifica. Il pubblico di Monte Rotondo ha sempre dato una grandissima risposta a quella che è appunto il movimento pallabolistico, il seguito, insomma hai un messaggio per i nostri fan per venirci magari a seguire anche durante queste partite? Beh io ho avuto già il piacere qualche anno fa di conoscere il calore del pubblico di Monte Rotondo, quindi faccio appello a quelle sensazioni e spero che tutti vengano a vedere la nostra partita e in generale tutte le nostre performance, quindi vi aspetto calorosi in palestra e speriamo di ridarvi soddisfazione e diciamo bei messaggi. Un messaggio che invece vorresti lanciare alla squadra? E' arrivato il tempo di chiudere il cerchio.